ehi esci di qua perché di lì è in piedi eh, si può uscire di lì, di qua è un po' più cattiva Ivan, da questa, ma smetti ma è una cagata e questo è qua, devi stare all'errore, quando sei sceso è troppo presto ti giri bravo, quando arrivi giù, che ormai stai finendo la discesa gli dai il corpo di... eh, ma qua lui esce di qua questa è una stupidata, devi fare quella di lì eh, va, va dove cacchio il bar lì è solo il trucco, quando gli dai e quando tiri eh, basta, non devi fare niente se no fai come il... come il Renzo il Renzo come ha fatto? gli ha dato, quando ormai era giù dalla discesa che stava iniziando gli ha dato troppo tardi è qua che l'ha buttata, eh ma di lì neanche di qua ha fatto metà e metà non lasciare la moto che l'ammazzi eh guardate stare in moto qualcuno che sia come me la moto è già arrivata qua dai dai di qua Marco diretti via da lì darvi qualcuno che ho fatto io io sono passato fuori là eh Ufffff Digo Ufff elevati Ufff lì